Come vedete amici di Lecco FM siamo all'interno, sotto alla cupola potremmo dire del planetario di Lecco. Siamo con il responsabile della programmazione del planetario Loris Lazzati, ma siamo qui per un motivo particolare, perché nei cieli, anche nel cielo lecchese, in queste sere è visibile una cometa, la cometa Neowise. Sì, è visibile questa cometa, la attendevamo da molti anni, nel senso che da molti anni non si vedeva una cometa così luminosa. La si può vedere a occhio nudo ancora per qualche giorno, naturalmente è un oggetto molto debole e non facile a occhio nudo, anche se provato sul campo ieri sera la si vedeva piuttosto bene dai cieli lecchesi. La vedremo, come ripeto, a occhio nudo anche se con molta fatica per tutti gli ultimi giorni di luglio, ma la si vede molto molto bene con un binocolo, meglio ancora con un piccolo telescopio. Il binocolo per questo tipo di osservazioni è uno strumento notevole, vi farà vedere benissimo la coda della cometa, che è molto lunga tra l'altro, parecchie decine di milioni di chilometri, e nel cielo, nell'inquadratura del binocolo, occupa una buona parte del campo visivo. Quindi si vede molto bene il nucleo e la chioma, la chioma, per essere precisi, che è piuttosto luminosa, e questa scia fantastica dietro, che è la coda della cometa. Per osservarla bisogna sapere naturalmente dove guardare. E adesso ve lo spieghiamo. Ok, perfetto. Adesso vi spieghiamo dove si può vedere, perché abbiamo qui i nostri punti cardinali, quindi ovviamente nord, sud, ovest, est, citando qualcuno. La cosa interessante è che questa cometa la possiamo vedere oggi, o meglio, la possiamo vedere in questi giorni, ma poi non la potremo più vedere per quanto tempo. Noi sicuramente... Per 6.800 anni circa, quindi per quanto riguarda questa cometa, o adesso o mai più, per quanto riguarda noi. Fortunatamente di comete ce ne sono moltissime, quindi presto speriamo che ne arrivi un'altra, magari ancora più bella. Per osservarla dovete avere come riferimento il punto cardinale, cioè la direzione nord-ovest. Nord-ovest, se noi guardiamo qui sulla cupola del planetario, abbiamo i punti cardinali e il profilo delle montagne lecchesi. Adesso lo inquadriamo, mettiamo a favore di camera la cupola, perché ovviamente, come potete vedere, ci sono le montagne a fare da riferimento. Ecco, lì vedete, quelle sono le vele delle meridiane. Meridiana, certo. Questo è il matitone. Quello è il matitone, andiamo a inquadrarlo. Ecco qua. Queste sono le montagne a sud e a ovest. A nord-ovest teniamo conto che il punto di riferimento di questa cupola è la posizione esatta del planetario. Quindi è una zona di lecco, è piuttosto a monte, è piuttosto a ridosso delle montagne che stanno, diciamo, a est. Per cui qui vediamo le grigne, il gruppo delle grigne grossolanamente a nord-nord-ovest. E la cometa la si vedrà più o meno a quest'altezza. Adesso, ecco, non so se vi vedete il puntatore, ma adesso vi aiuteremo, perché adesso andiamo ad abbassare magari le luci e noi ci mettiamo qui, mettendo la camera. Ecco, perfetto, si attiva una vista un po' più notturna. Vediamo anche qualche stella molto fioca, ma ovviamente per questioni di inquadratura possiamo farvi vedere questo. Adesso con il puntatore noi potremmo farvi... Non riusciamo bene... In questa zona... Ecco, un attimo che andiamo ad... Prego. In questa zona, il puntatore, l'inquadro delle stelle del rosso maggiore. In particolare le ultime due, quelle che ci portano alla stella polare. Ecco, queste due esattamente. Vedete una? Un secondo che arriviamo per parlare. Queste due stelle, che vedrete a malapena ma perché c'è la luce piuttosto alta, sono le due stelle che ci portano alla stella polare che sta qui. Per trovare la cometa dobbiamo prendere queste due stelle, scendere in basso, leggermente sulla destra, quindi grossomodo in quest'area di cielo, in questi giorni, la cometa che si sposta in questa direzione, ma non è velocissima, in questi giorni si trova in quest'area di cielo qua. Quindi noi magari prendiamo le montagne come riferimento. Sì, se osservate, diciamo, dalla zona proprio del planetario di Castello, osservando il gruppo delle grigne, poco sopra dovreste trovare la cometa. Non aspettatevi dal centro città di vederlo occhio nudo perché chiaramente il cielo è troppo luminoso, è troppo inquinato dalle luci. Se siete in una zona buia, per esempio il piazzale della funivia di Erna, lì la vedreste poco sopra San Martino. Dovete naturalmente essere sicuri che le montagne non siano così a ridosso di voi da coprirvi la zona di cielo interessata. La cometa non è molto alta, ma è abbastanza alta per essere vista comodamente. Anche se non la vedete occhio nudo, ma scandaliate questa zona col binocolo, col binocolo la troverete fulminiamente, la troverete subito. Per i lecchesi lo ricordiamo, tenete le montagne come riferimento perché il nord-ovest sicuramente avrete anche, è possibile installarla sui telefoni di nuova generazione, ma anche non di nuova generazione, una bussola, come vedete siamo nord-ovest, un po' più verso il nord. In realtà teniamo il gruppo delle grigne come riferimento ed è alla portata di tutti. È alla portata di tutti, ecco attenzione nell'usare le montagne perché le montagne sono più familiari a tutti che non le stelle, chiaramente, ma mentre le stelle non ingannano mai, le montagne possono farlo perché basta spostarsi di poche centinaia di metri nel territorio della città di Lecco e già la posizione delle montagne cambia drasticamente. Quindi, ripeto, questa proiezione è fatta dal punto di vista di Palazzo Belgioioso qui a Castello. Se andate appunto a Versagio, alla piazzale di partenza della funiva di Pianiderna, vi ho detto che la vedrete praticamente sopra San Martino. Se vi spostate, per esempio, al Bione, già cambia completamente prospettiva. In ogni caso, l'altezza è sufficiente a farvela vedere comodamente. Il problema di osservare altezze comunque non così alte, anzi basse, sull'orizzonte, è che sull'orizzonte, dovendo la luce delle stelle attraversare uno strato più ampio d'atmosfera, viene più assorbita, più estinta, quindi si vede peggio. Se la cometa fosse molto alta si vedrebbe molto meglio. Vi faccio vedere anche la traiettoria notturna. Adesso la cometa si vede praticamente per tutta la notte. Quindi, in prima serata, si trova qui, con la rotazione del cielo, scenderà fino a qui, a mezzanotte si troverà poco sopra al nord, durante la notte risalirà da questa parte e per tutta la prima parte della notte, cioè finché diventerà chiaro, fin fino all'alba, la vedrete sempre in cielo, questa volta però a nord-est, dove la si vedeva, per esempio, qualche settimana fa. Ecco, qual è l'ora che lei consiglia per vedere questa cometa? L'ora che consiglio, se volete osservarla comodamente, appena diventa buio. Quindi alle 22, voi guardate il cielo, non mollatelo un attimo, tra le 22 e le 23 la cometa già si vede benissimo. Si vedrà anche nelle ore successive, però a mezzanotte sarà molto bassa, perché deve fare il suo arco qui e poi risalire. Se volete invece fare le ore piccole o l'alba, la vedrete comodamente risalire da questa parte, quindi la potete vedere più alta sull'orizzonte nord-est. Quindi lo ricordiamo, o meglio, lo ripetiamo, gli ingredienti sono alla portata di tutti. Una bussola, un binocolo, e mi raccomando, tenete il nord-ovest e poi il nord in tarda sera come punto di riferimento, le montagne, pensatele come se foste qui Palazzo Belgioioso. È un po' più complicato, ma sicuramente con una bussola ce la farete tutti a vedere questa cometa, che è un avvenimento più unico che raro, e lo ricordiamo, si ripete, una volta ogni 6.800 anni. Quindi non perdetevela, questa cometa Neowise. Noi ringraziamo tantissimo Loris Lazzati, responsabile della programmazione qui al Planetario di Lecco, anche per, insomma, averci accolto nella cupola e averci spiegato nel migliore dei modi come trovare questa cometa. Quindi grazie mille, anzi, appuntamenti al Planetario, che è dovuto restare chiuso per un periodo di tempo un po', come tutte le altre attività in città e in Italia in generale, ma che sicuramente tornerà con i suoi eventi. Sicuramente, aspettiamo di sapere come agire per le norme di sicurezza per il Covid. Abbiamo ottenuto un'iniziativa molto partecipata sabato scorso nel cortile, dove è più facile rispettare le distanze e tutte le norme. Vediamo adesso cosa potremmo fare. Probabilmente in agosto faremo una serie di iniziative il venerdì sera sempre nel cortile, sperando che poi con l'autunno si possa tornare anche con la programmazione interna, sempre con tutte le norme di sicurezza. Allora noi vi auguriamo una buona serata dal Planetario di Lecco. L'appuntamento è per questa sera. Mi raccomando, non togliete gli occhi dal cielo e dalle stelle. Grazie.